Siamo nel traforo del Gran Sasso, nella canna del traforo che da Teramo va verso la provincia dell'Aquila e ci stiamo avvicinando all'ingresso dei laboratori nazionali del Gran Sasso. Sì, sono Gorla. Immaginati una cinquantina di anni fa, i laboratori del Gran Sasso, o meglio nel Gran Sasso, visto che sono letteralmente scavati nella pancia della montagna, sono stati costruiti insieme alla galleria che la attraversa, una caratteristica che li rende unici al mondo anche per facilità di accesso. I primi esperimenti della fisica cosiddetta underground, cioè fatta sottoterra, sono stati fatti negli Stati Uniti, in Europa, all'inizio in miniere sostanzialmente. Qui sotto lavorano ogni giorno decine di persone, ma sono addirittura un migliaio quelle che gravitano attorno ai laboratori per ricercatori fissi, in visita e personale addetto alla manutenzione e al funzionamento di un impianto così sofisticato e delicato. Tre le sale principali che compongono questa struttura. Dietro questo edificio che tu vedi là in fondo si trova l'esperimento Borexino, disegnato e sviluppato per misurare i neutrini prodotti nel centro del Sole. Questo è l'esperimento Cuore, che è l'esperimento nel quale sono cresciuto scientificamente io. All'inizio degli anni 90, a largo delle coste della Sardegna, è stata ritrovata una nave di epoca romana contenente svariate migliaia di lingotti di piombo. Con la parte del lingotto, che non ha interesse archeologico, viene rifusa e formata una schermatura che attualmente è all'interno dell'esperimento. Dai laboratori sotterrani ci siamo spostati all'Aquila, al GSSI, Grand Sasso Science Institute, dove lavorano alcuni dei ricercatori che leggono i dati provenienti anche dagli strumenti attivi nella montagna a pochi chilometri da qui, come la dottoressa Marika Branchesi. Mi stavo un attimo riposando con i miei bambini che giravano intorno ed è arrivato un suono nel mio telefonino. Ho capito subito che mi dovevo immediatamente collegare, perché sono coordinatrice del gruppo che manda le allerte. Abbiamo capito immediatamente che era un segnale speciale, era un segnale di 100 secondi, era chiaramente un segnale gravitazionale ed era la coalescenza di due stelle di neutroni. Poi la ricaduta pratica di una scoperta del genere, se c'è... È stato sviluppato un sistema di early warning per i terremoti, perché la variazione di gravità, praticamente in un punto che magari è distante dall'epicentro, può arrivare qualche secondo prima e qualche secondo può comunque essere utilizzato per bloccare, non so, centrali nucleari.